Il drone della squadra d'attacco ha trovato il contenitore di mio rischio. Dieci secondi all'inserimento. La squadra d'attacco ha trovato il contenitore di mio rischio. Raggiungetelo. La squadra d'attacco ha trovato il contenitore di mio rischio. La squadra d'attacco ha trovato il contenitore di mio rischio. La squadra d'attacco ha trovato il contenitore di mio rischio.